Oltre 11.000 libri nella nuova biblioteca del religio classico Eschilo di Gela intitolata la memoria del preside Nicolo Di Fede, uno spazio plurale che sarà aperto alla città assieme cultura e conoscenza. Ieri taglio del nastro alla presenza del governatore della Sicilia, il gelese Rosario Crocetta, la benedizione dei locali è stata affidata al vicario foranio Michele Mattina. Inaugurare una biblioteca è sembranamente importante perché avere una biblioteca, la cultura è la ripartenza di tutto, non ci può essere rinnovamento della società senza cultura e soprattutto non c'è cambiamento della società senza l'impegno dei giovani che rappresentano anche la possibilità di migliorare la società, magari riparando gli errori del passato e introducendo forti elementi di cambiamento e innovazione. Senza i giovani la società sarebbe ferma. Visibilmente soddisfatto il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri. È una giornata che aspettavamo da molto tempo perché abbiamo costruito letteralmente questo spazio plurale di una biblioteca che è storica, che era stata bruciata una quarantina d'anni fa che ha ospitato la cultura, l'intelligenza gelese anche per il patrimonio di libri che in essa è contenuto e che necessitava di un adeguamento che oggi finalmente abbiamo. L'abbiamo denominato spazio plurale, l'abbiamo denominato così perché è una biblioteca di libri ma è anche una biblioteca in cui attraverso il wifi si possono avere poltroncine e i tavoli e dieci computer si possono fare tutte le ricerche del caso.